è una strategia sul dax anche qui cerchiamo un attimino di inquadrare quello che è il contesto innanzitutto iniziamo vuol dire che è una strategia short è una strategia short che nasce appunto analizzando quella che è stata la dinamica di prezzo non tanto nel corso delle ultime sessioni ma quanto nelle settimane precedenti ovvero un mercato che di fatto aveva ballato no abbiamo visto una fase di trading range piuttosto prolungata all'incirca dal 10 di novembre fino a settimana scorsa intorno al 15 di dicembre mercato che aveva stazionato in trading range ponendo però sempre come base è questo livello un'area compresa o meglio più che livello un'area compresa tra 14 mila e 200 e 14 mila e 300 punti all'incirca su questi livelli il mercato era stato sempre tenuto no a galla e poi invece c'è stato 15 di dicembre c'è stato questo breakout al ribasso di quota 14 1200 punti e da lì poi abbiamo visto il mercato scivolare fino a 13 mila 750 ora il mercato sembra aver ritrovato slancio ha fatto una base di accumulo appunto proprio partendo da da questi minimi e completando anche un modello di tipo testa e spalle visibile già sul grafico a un'ora un pochino bruttino come modello ma inclinato nella maniera corretta per quanto riguarda l'inclinazione della della neckline poiché è ascendente e quindi secondo me c'è possibilità che il mercato vada ulteriormente ad apprezzarsi però detto questo io ora mi aspetto che andando a ritestare questo famoso 14 mila e 2 che di fatto aveva assunto un ruolo di supporto nel corso dell'ultimo mese mi aspetto che il mercato vada ad incontrare qualche difficoltà per lo meno in una prima fase andando appunto a testare questo livello qui potendo fare un'operazione di scaling in ovvero magari potendo scaionare gli ingressi avrei forse diciamo ecco identificato tre aree ovvero 14 e 2 14 e 2 50 fino a 14 e 3 che poteva essere l'ultimo livello insomma dove andare a cercare secondo me uno uno short chiaramente qui siamo diciamo ecco costretti a mettere a mercato un solo ordine per cui guardando la dinamica di prezzo di stamattina mi sono fatto come dire un pochino ingolosire da questo modello a doppio minimo su base cinque minuti che è visibile insomma con un massimo che il dax ha fatto a 14 220 per questa ragione ho cercato un piccolo pullback ordine già a mercato da 14 210 lo stop è 14 310 quindi poco sopra quello che è l'ultimo diciamo ecco livello utile di entrata e il target anche qui nulla di trascendentale 14 110 quindi 100 punti di rischio per 100 punti di gain proprio perché ripeto comunque il mercato ha fatto una base di accumulo diciamo ecco di recente quindi non mi aspetto che questa correzione possa essere perlomeno nel breve particolarmente diciamo ecco profonda grazie a tutti